Allora ragazzi, adesso in questa clip vi dimostrerò com'è che giocare senza Rosario è molto meglio Perché in realtà, quando giochi con Rosario, non sono i nemici a ucciderti È lui, lui che fa cadere tutto il tuo team all'inferno Cioè lui muore come un coglione e si porta tutto il team all'inferno con lui Guardate, cioè semplicemente guardate, non ho parole Qui fierissimo, Nicola prova a curarmi Il bastardo bello distrugge il cespuglio, attira i nemici PAM! Morire sembra a posto Oh, no! I'io sempre! I'io sempre! I'io sempre! I'io sempre!